E' barate! Dai, giochiamo e' barate! Dai, non possiamo perdere quei barate on the draw tutta la vita. Devo creare, voglio scrivere un nuovo reality. Una vita on the draw. Sarà bella mano, però. Su real time. Non sapevo di essere on the draw. Si, vogliono trovare Esper? Ok. Rad! Vabbè, mutati dai, coglione rincoglionito. Counter? Reprieve. Ci sto. Sbricces! A terra rusco. No, niente. Ok. Va bene. A me piace Crucias, ti devo dire. E' pochè. Ciao. Non, è un'ọ. Non è un' sachita. No, è un'xagerio. Non è un XVIII. E poi è un'ac��이, ma è un'anno. non mi serve più una sega il cruciani ho deciso il cruciani timeless è incredibile ragazzi gioca creature gioca creature dai azzerz ah va avratta dodo boom lord grazie ma tutti è concesso di sbagliare una volta con la grotta? no perché siamo abituati alle carte uncountable che sono viola intorno quindi lo sai da chandra lo sai da shift in ceratops che le carte con la luna e viola sono incanterabili che cazzo fai? giochi repriva apposta contro cavern of souls perché poi giochi l'altra con questa palta in alchemy sì ma perché giochi questa carta? cioè questa si gioca apposta questa no non ha senso bello l'anello mi piace sai anche cosa mi piace? toglierlo dalla te scoppiammi dalla sirena l'arcenista scende e toglie l'anello salve e noi smappiamo su la sirena dodo vedete cosa faccio con la carta blu? quale? quella scarsa di prima ah non è che è scarsa è buona ma non in un meta cioè non contro cavern of souls ok rifà l'anello però non ritriggera l'anello perché è già in campo ricordate già solo averlo ritardato di un turno tanta lana direbbe Gianni Sperti e brecciolino no quindi se non è briches e spire non è crucius molto probabile che abbia effettivamente un removal che ne vorrei tenermelo crucius per appena pesco terra eccolo lì quanto è facile Magic va bene è un po' indifferente la scarta under the bridge no no è le tagliatelle di Nonna Pina però nella versione di Red Dot ce li perdono porcino portento come lo evitiamo questa morte di preciso esatto esatto ok allora Stroke negate in realtà Braid sarebbe buono Schooner un briches lo abbazzo Kamachal non connetterà mai posso togliere un cap no storm è forte no una forse toglie però è leggendario tengo un boarding solo come Kamachal doveva avere Menas e Ace sono cagati caverna pirata peschillo let's go Crucial si veniva da dominare United Repri bravo ho imparato no non è che puoi scegliere di non prendere Crucial nella vita voglio dire no fatti catta sotto ha cattato sotto c'ha le paure di spavento lui o sbaglio ho le paure di spavento non giochi nulla no e ora hai usato il codice sconto Edgar se no hai perso un botto punto esclamativo car game corner ragazzi codice sconto del mod 10 eh non può avere ampere il godo tu non porcino portenterai oggi lui è già un threat quindi confiamo lei lui va tolto quindi sento vale confiare quella il resto sta girando eh ora it's gearing now eh minchia si faceva comodo al 10% di sconto Edgar abbastanza è nulla ti dirò allora questo tecnicamente triggera no che ho fatto tesoro si no triggera il turno dopo allora faccio sirena e tesoro di cru di brif bracolo dell'ansia ok boom attacco brif non blocca non fa bloccare questo velo dire ah tesoro tesoro crea crea un mappo crea un mappo porca troia ok ok due due gratis andiamo andiamo a riprenderci brif se ce lo fotte si questa si scarta e ci facciamo una bella cazzaladra eh la che bei tempi la cazzaladra non vedo perché no farewell sunfall addirittura ok vabbè il riguardo si um no c'è cutdown ti dico che bene se rivratta siamo tranquilli perché con l'arsenist posso togliere il 6 6 mia moglie appena rincasata vorrebbe sentire un pezzettino di te che fa esere che visto che non mi crede mirano che si avvicina la realtà delle squine viene di agorumbeando con la luna se la pupilla si sottraga acqua marina vares dote contrabando e donde ma sono un'arma di senese se cagna posi di dopo il ritmo e di se che lo conosce tocca lì nella nostra parade con la canzone ma se a dai la cosa la bella la cantate ad debet debet se più no ma vi and but and but and but p bastare non continuo la serie god mirano che si avvicina la realtà delle squine viene decolumbeando con la luna se la pupilla si sottraga acqua marina vares dote contrabando e donde ma sono un'arma di senere andese gane riparte grazie siamo una scopata figurati tranqui vai godi ciao mike c'ha removal su britches secondo me quindi non posso fare terra equipaggio se no non posso fare crucius poi sapevo i sapevo i sapevo i sapevo i mi ha portentato il porcinanthus male boom piglio attento è forse la carta migliore di alchemy in assoluto anche timewalk non è male ok timewalk l'hanno detto è forte abbastanza si attento Sì Sai che forse forse È il tomo il problema Faccio un pirata Prendo risorse Conviene prendere il bundle Dal 20 boost di alchemy Se lo usi Sì Tanto posso lasciare Il cazzo di quale Top Tanto faccio la crucia Cioè se vuoi giocare alchemy Sì è un bundle Che vale un bot Ok Ok Dovrei essere a posto Sbagliato Sbagliato Scusa Cazzato Scusa fra No no era giusto È uguale È esattamente identico Cosa c'ha a mano Non capisco Secondo te Non l'avevo messo In considerazione Sta cosa Sempre a 2-6 Grande pescata Johnny Ok Forse vai a 3 Vabbè Vabbè la carta Su arena È rara Di bolt Ragazzi Quindi rimane rara Non è che La nerfano Attacca Come Qualcosa cazzo C'hai Doppio removal In mano Come fai Come è possibile Stai attaccando Perdonami Io metto Se in cima Non ho terra Ho vinto Era Ho vinto C'hai col mana Blu e bianco Get lost Veramente Ha pescato Cutdown E get lost Da Cesare Call Impazzisco C'hai coluna E perché non c'hai dash? Ma cos'è questo attacco? Ma perché ha girato tutto? Questo vuole perdere apposta, per forza. Non ci voglio credere. Con quale consistenza peschi gli ancestrari conti? Dai, due spell morto, forse. Oh, poi Sanpei, sì, 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 sì. Questa è in Twister, no? Ah, perché è... Va bene, terza. Va bene. Non ha senso negare. Servono i removal. È un mazzo creature, fondamentalmente, il suo. Devo spaccare il rusco, devo spaccare il piccione. Meglio. Snap, sto giocando l'unico mazzo vero che ho. Ovvero Shuri Sauron. Ci ho fatto infinito. Il mese scorso. È rincominciata la season? Non so sempre... Ancora no. Eh, l'endolo è più forte, in realtà. Non capisco mai quando inizia la season di... di Snap, perché non segue il mese. Eh, devo fare... Tirena esploro. Martyr, dice, nuova carta. Simpatica. Ah, le terre. Non capisco, 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 non capisco. Hanno tolto Chavez finalmente Lo odiavo io America Chavez Stiamo ad attaccare Quindi i combo ora Sono un po' depotenziati Che le vedranno meno Tipo Shurisauron è vero Ciao Indra Faccio Prish Si attacco Tesoro Morto scherzavo Vabbè ZA ETERNAR WONDER I'LL HANDLE THIS ONE Dios Sì Va bene Allora capiamo Ruggi Se vuoi giocare alken Mi vale la pena Comprare i busti di alken Molto semplice Era abbastanza ovvio No sono scemo Sì 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 BOOM I BOMBI Sì 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 Giusto il pesco ora Vivo perso Va bene Eeeh Zoppica Zoppica Lo vedo magari Con qualche sistematina Magari una versione Un po' più tempo Però Zoppica sto mazzo Rispetto al Al reale zoccolo duro Di alken Sì 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 Sì